Musica E' stato presentato nella Biblioteca Comunale dei Nobili di Catanzaro il ricco e variegato cartellone di eventi di Natale in città promosso dall'amministrazione comunale. Ci sarà il ritorno di A far l'amare comincia tu, la rassegna musicale e culturale ideata e diretta artisticamente dal cantautore e produttore musicale Antonio Pascuzzo che animerà le festività a Catanzaro con concerti e eventi culturali che si snoderanno nei luoghi storici e di culto del capoluogo. Molto ricco il cartellone che vedrà peraltro la partecipazione dei big Vinicio Capossela, Roy Paci e Samuele Bersani. Il Natale si vive in famiglia, Catanzaro lo vivrà in famiglia nel senso che faremo un Natale di aggregazione. Credo che è una città che viene da un periodo così faticoso come sono stati quelli del Covid e poi delle elezioni e abbia bisogno di una fase di riconciliazione prima di tutto a partire dai cittadini. E quindi pensiamo di dare un piccolo contributo a questa fase attraverso una rassegna che porti le persone a stare vicine, a stare insieme, ad aggregarsi, a fare delle cose insieme. Credo che il simbolo di questa rassegna, al di là dei nomi importanti che ci sono in cartellone e che serviranno certamente a dare lustro, a dare visibilità, è un'iniziativa a cui teniamo tantissimo e che è stata fatta, appunto la stiamo ancora facendo, la stiamo realizzando, la stiamo costruendo ogni giorno entri le migliori risorse del territorio che si sono messe insieme per fare una cosa che chiamiamo con un certo pudore, ma anche un piccolo moto d'orgoglio, una calaica e che sarà probabilmente l'elemento sicuramente più impegnativo per noi dal punto di vista della produzione, ma anche ci auguriamo anche dal punto di vista emotivo sarà quello che ci porterà a riscoprire vicoli, strade, portoni della città, farlo di notte con una carovana ricchissima, con bande, non vi spero tutti i segreti perché stiamo lavorando su tante cose, ma sarà una cosa fatta veramente con il contributo di tante persone che hanno deciso di metterci il talento, il cuore, le mani e la faccia Sì, presentiamo ora un cartellone che ha come punto centrale e motto, diciamo, quello che vedete alle mie spalle a farla amare comincia tu, perché questa, diciamo, l'idea della nostra amministrazione di fare amare questa città e di avere anche la partecipazione come vedrete anche di molte persone che di loro iniziative e con le loro risorse hanno fatto questo Grazie a tutti